La Mille Miglia per me è una specie di storia familiare. La Mille Miglia è stata un propositore dell'automobile che io vedo non tanto come semplicemente un mezzo per fare una competizione sportiva o semplicemente un mezzo di trasporto, ma l'automobile di quegli anni che è sinonimo di tante cose, di emancipazione, di libertà, di possibilità di muoversi autonomamente di quell'epoca e quindi proprio di tutto un pensiero culturale. C'è un pezzo dell'umanità che è collegata allo sviluppo di quell'idea come forse nient'altro, inserito però in un territorio straordinario. La Mille Miglia la vedo unica perché è unica nei territori italiani che ha attraversato e che attraversa.